Musica Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Fammi conoscere, Signore, le Tue vie Cristo risorto, buona giornata carissimi amici Ieri abbiamo ricordato la conversione di San Paolo e oggi invece ricordiamo Tito e Timoteo Vescovi ma soprattutto discepoli e collaboratori molto stretti di San Paolo Oggi innanzitutto ascoltiamo prima il Vangelo e poi una di queste lettere Vangelo secondo Luca capitolo 10, 1-9 In quel tempo il Signore disegnò altri settantadue e li inviò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi Diceva loro La messe è abbondante ma sono pochi gli operai Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe Andate, ecco, vivando come agnelli in mezzo ai lupi Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada In qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa Se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui altrimenti ritornerà su di voi Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa Non passate da una casa all'altra Quando entrerete in una città e vi accoglieranno mangiate quello che vi sarà offerto guarite i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di Dio Amen Leggiamo anche la seconda lettera di San Paolo a Timoteo Capitolo 1, 1, 8 Paolo Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù a Timoteo, figlio carissimo Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo Signore nostro Rendo grazie a Dio che io servo con i miei antenati, con coscienza pura ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre notte e giorno Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia Mi ricordo infatti della tua schietta fede che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice e che ora ne sono certo e anche in te Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di forza, di carità e di prudenza Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro né di me che sono in carcere per Lui ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo Amen Carissimi Oggi quindi che ricordiamo questi due discepoli collaboratori di Paolo vediamo che la liturgia ci offre il Vangelo di Luca in questo decimo capitolo in cui Gesù oltre ai dodici invia altri settantadue discepoli che vanno a proclamare la buona novella che vanno ad annunciare la sua presenza che il Regno dei Cieli è in mezzo a loro Quanto è importante quindi obbedire anche noi perché noi facciamo parte di questi settantadue Noi siamo succeduti agli Apostoli ma siamo in questi nuovi discepoli di Cristo a cui Gesù dice anche oggi La messe, il lavoro è abbondante Noi sappiamo quanto bisogno c'è Lo vediamo quando usciamo di casa Lo vediamo quando accendiamo la tv Guardiamo le notizie sul cellulare Ci vengono le news da tante parti del mondo, d'Italia Quanto bisogno c'è del Vangelo Quanto è bisogno soprattutto che vengano degli operai in questa messe Dice Gesù Vengano annunciatori di buone notizie Amen Oggi per te io sono un annunciatore di buone notizie Ma tu, a tua volta, sarai per quelli di casa tua Per quelli con cui lavori, con cui vivi Un annunciatore, testimone, gioioso di buone notizie E Gesù è molto chiaro E dice portate la pace Shalom Nelle case dove entrerete Alle persone a cui parlerete E quando sarete con loro Dice guarite i malati che vi si trovano Anche questa espressione è davvero molto forte Che noi spesso, fratelli e sorelle Nascondiamo Ascoltiamo ma né ci riflettiamo Né la commentiamo O perché non sappiamo cosa dire Non abbiamo esperienza di guarigione O di pregare nel nome di Gesù per i malati E quindi c'è un tacere C'è un sorvolare Quindi parliamo di pace Parliamo di evangelizzazione Ma non parliamo di guarigione Gesù ha detto Quando entrerete in una città Nelle case vi accoglieranno Mangiate quello che vi sarà offerto Guarite i malati che vi si trovano Amen Cosa significa? Significa che è Dio chiaramente che guarisce Noi preghiamo per le persone Preghiamo per le situazioni Preghiamo per le difficoltà E come sto dicendo in questi giorni Non sono solo i preti che devono pregare Ogni battezzato Ogni cristiano è chiamato a pregare per i malati Amen È Gesù che lo dice Se non ci piacciono queste parole Dobbiamo strappare tutto il Nuovo Testamento Perché da Gesù che compie Miracoli, segni, prodigi, guarigioni, liberazione I Suoi apostoli, i discepoli Fino all'Apocalisse Dovremmo strappare tutto il Nuovo Testamento Ma il Nuovo Testamento Non è un museo dell'antichità Che è rimasto nascosto Nessuno ci può entrare È chiuso, è serrato E si dice Ciò che è accaduto duemila anni fa Oggi non accade più Perché siamo maturati Perché siamo in tempi diversi, nuovi Contemporanei, moderni Il Vangelo, fratelli e sorelle È sempre attuale Quindi io Sempre sono chiamato Ad annunciare Gesù Cristo La buona notizia E quando le persone accolgono La mia, la tua parola Io prego per loro Io prego per le malattie Io prego per le difficoltà Prego per le crisi E Dio interverrà E dirò È vicino il regno di Dio Ecco perché oggi In questa bellissima lettera Di San Paolo a Timoteo Che abbiamo ascoltato Paolo stesso dice Ricordati di ravvivare Il dono di Dio che è in te Ravvivare il Vangelo Che è nella tua vita Le esperienze che tu hai fatto in Cristo Dio non ti ha dato Uno spirito di paura Di timidezza Ma ti ha dato uno spirito di forza Quanto spesso invece Noi cristiani Siamo una Controtestimonianza Perché di fronte alle altre Facciamo vedere che siamo tristi Siamo scoraggiati Abbiamo paura di tutto Abbiamo paura di uscire Abbiamo paura di tutto Di ogni difficoltà Nuova Che si affaccia nella nostra vita San Paolo dice Dio ti ha dato uno spirito di forza Di carità E di prudenza Non vergognarti del Vangelo Amen E allora invochiamo Questo spirito santo Che è davvero forte E ci accompagna anche oggi Vieni spirito santo Tu che davvero sei Uno spirito di forza Di amore Di carità Di pazienza Di prudenza Vieni oggi nella mia vita Vieni al mio fianco Vieni e incoraggiami Ad annunciare il Vangelo Ad annunciare che Cristo è vivo Che Cristo è la soluzione Di ogni problema Che Cristo è la risposta Alle nostre domande Spirito santo Metti nel mio cuore Nuovo zelo Metti nel mio cuore Nuovo entusiasmo E allontana Tutte le giustificazioni Tutti i miei silenzi I miei mutismi Perché mi vergogno Del Vangelo Perché dico Non è il momento Non è il tempo Non ci riesco Non sono adatto Spirito santo Tu sei la mia forza Per annunciare le nuove vie Che tu vieni a creare Nella mia vita E nella vita di coloro Che incontrerò A te Signore L'onore e la gloria Per tutti i secoli Dei secoli A me Quindi carissimi amici Come Timotio Come Tito Anche noi Discepoli di Cristo Siamo chiamati Ad essere operai Nella sua vigna Annuncialo con gioia Oggi Almeno a tre persone Che il Signore ti benedica Grazie che mi avete accolto A domani Ciao Fammi conoscere Signore le tue vie Fammi conoscere Signore le tue vie Fammi conoscere Signore le tue vie Insegnami Insegnami I tuoi sentieri Guidami Nella tua fedeltà E istruiscimi Perché sei tu Il Dio Della mia salvezza Fammi conoscere Signore le tue vie Ricordati Signore Della tua misericordia E del tuo amor